Nel parco, attrazioni fantastiche e poi musiche, le musiche di Disney che sono celeberrime in tutto il mondo e che verranno cantate, sono state che dai nostri nonni, dai nostri papà, noi e i nostri nipoti e così via e c'è una voce ufficiale che è Arianna, in un medley, una fantasia dedicata a Disney. Arianna! Grazie mille! Invece di spazzare e di ballare con lei mi sembrerà Se voi cantate e fischiettate il tempo volerà Di delle di, cominciano i vedi, se baila ti farai Il furor puoi guadagliare senza farti gas Di delle do, scarrupperai la do La vita in cui tu potrai goder È bello farla do Ti bastano poche bricciole, l'aspetto indispensabile, i tuoi malanni puoi dimenticare In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovare quel po' che occorre per campare Mi piace vagare, ma ovunque io sia Mi sento di stare a casa mia Ci sono lassù le api che il loro miele fan per me Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche e un po' io me ne mangerò Vicino a te qualche ti occorre puoi trovare Lo puoi trovare È supercalifragilistico e spiralidoso Anche se ti sembra che abbia un suono scolentoso Se lo dici forte avrai un successo strepitoso Supercalifragilistico e spiralidoso Ricordo che ha tre anni per convincermi a parlare Mio padre mi stirava e nava il dio giù a lacrimare Finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò Rimase così male che mai più ci riprovò È supercalifragilistico e spiralidoso Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso Se lo dici forte avrai un successo strepitoso Supercalifragilistico e spiralidoso Supercalifragilistico e spiralidoso Lui girai lungo e largo il mondo e sempre ovunque va La sua parola magica gli dà notorietà Coi ducchi e maragià coi mandarini e vicere Mi basta appena dirla che mi invita per il te Ah supercalifragilistico e spiralidoso Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso Se lo dici forte avrai un successo strepitoso Supercalifragilistico e spiralidoso Supercalifragilistico e spiralidoso Bravissime 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 Venite qua Bravissimi Facciamo un gruppo Adesso breve intervallo E poi come andrà Stiamo cascando ragazzi Allora come andrà La vicenda del nostro condominio Che ci sarà Che cosa accadrà a casa della signora De Angelis Un momento di intervallo E poi situazione Che vede come protagonista la signora De Angelis Il colonel Basterini e tanti altri E la presenza di Gino Paoli e Francesca Dell'Era Tra un po' Ciao Ariane Grazie